Ancora problemi per il metro del mare per i passeggeri che avevano scelto ieri mattina di partire dal Cilento per raggiungere Capri. Lungo il viaggio di ritorno infatti l'imbarcazione ha avuto un guasto tecnico ed è rimasta ferma ad Acciaroli. Una disavventura per le circa 20 persone che avrebbero dovuto raggiungere i porti di Palinuro alle ore 19.30 e Sapri alle ore 20.15. I passeggeri hanno dovuto far rientro nei porti di partenza in autobus. Una disavventura, quella di ieri sera che segue quelle delle scorse settimane quando il metro del mare ha avuto difficoltà ad attraccare ad Agropoli, porto poi cancellato dalle tratte, e San Marco di Castellabate dove sono stati effettuati vari tentativi prima di riuscire a fermarsi. A ciò si aggiunge il fatto che la regione avrebbe dovuto attivare il servizio a giugno mentre è partito soltanto ad inizio agosto. Disaggie pochi passeggeri, insomma un'estate da dimenticare per il metro del mare, un servizio che invece in passato sarà rilevato fondamentale per i collegamenti tra Cilento, Costiera Amalfitana e Isole Napoletane.